Era stato anche in Siria Diego Berardi, il quarantenne imperiese, arrestato in Francia, a Strasburgo, a seguito di un mandato di cattura internazionale per detenzione di esplosivi e detonatori. Il viaggio in Siria, in un territorio noto anche per i campi di addestramento dei terroristi islamisti, Berardi l'aveva compiuto alcuni anni fa, in tempi non sospetti. Sulla vicenda che lo riguarda ora stanno indagando anche i Carabinieri del Rosso e il reparto operativo speciale di Roma, in stretta collaborazione anche con i colleghi del Nucleo Informativo Centrale, che erano già stati a imperie in occasione dell'avvio degli accertamenti su Berardi, che hanno poi portato al sequestro dell'esplosivo da parte dei militari del Maggiore Emanuele Agnoni. A quanto sembra anche le autorità francesi stavano tenendo sotto controllo Diego Berardi da diverso tempo, sospettandolo per presunte simpatie con il mondo del terrorismo islamico, ma a quanto pare i francesi non lo consideravano un elemento particolarmente pericoloso. Cominciano però a essere tante preoccupanti le coincidenze che ruotano attorno a Berardi, la detenzione di esplosivi detonatori, il profilo Facebook ricco di immagini di terroristi in cappa nera, il messaggio sempre su Facebook alla vigilia degli attentati di Parigi con scritto in inglese pericolo mine, il viaggio in Siria e l'arresto a Strasburgo, città di origine di uno degli attentatori del Bataclan di Parigi. Tante coincidenze forse troppe e tante domande ancora senza una risposta.